Mi ha perduto il mio caro! Magari 7 levis e magari metto una spinta Andiamo a retromarcia No, non ce lo inviene Io non respawno, non ho voglia di respawnare Elevate, che sta da fare tutti qua? Grazie Basqui che si è respawnato Ok Digiriamoci con stile E andiamo Vediamo se ce la facciamo Quello qua, romanaccio Che sta a combinar, romanaccio Andiamo Cosa c'è da fare qua? Ok Più veloce, romana Quanto bisogna salire? Cosa, cosa, cosa? Giù? Dove? Qua Così? Walleride? Aspettate Non credo perché il check sta esattamente qui Oh, luco Ho preso il check Mi dispiace, ho superato con stile Di qua Sì, sì Ok Dobbiamo attendere Su, dobbiamo attendere? Non c'è posto per due Mi dispiace Ok Oh, è distante Facciamo attenzione Ah, qua bisogna saltare No, non credo No, non credo Saliamo qua Oh Bisogna saltare sì invece Ho aspettato Oh, luco Un po' più indietro Sì? Ok, ok Dopodiché bisogna scendere qua Marcia indietro Sì, sì, sì C'è un turbo qui Facciamo attenzione Ok Dopodiché C'è un altro segnale Sole Ok, 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 ok E ci siamo Rigiriamoci Proseguiamo Cosa dobbiamo fare qua? Vediamo Oh Estremo, estremo, estremo Aspettate Prendiamo un po' di rincorsa Sì, sì O sta arrivando lucozzi Ah, no, no, no Tutto ok Rimandiamo dritti Aiuto, aiuto, aiuto Abbiamo preso un check Wow Ok Dopodiché Risaliamo su Sempre dritti Sì, siamo vivi Oh, bisogna salire ancora Un altro po' Fatto? Sì, sì E ci siamo, raga Mamma mia Che suini rapidi Non dobbiamo cascare qua, però, eh Driftiamo Dopodiché bisogna andare qua Due minuti di parkurito Ok Dove devo andare? Scusate Dov'è il check Dov'è il check? Lì La freccia indica qua Così? Sì, 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 sì Che arriva Allora Rigiriamoci Un mega scherzo Sui, eh Ok Dove dobbiamo andare? Eh Ci siamo E dopodiché Dobbiamo andare Là Ok Ok Ho aspettato un attimo, eh Veloce Veloce Sui Più veloce Che puoi Ok Ah, c'è un freno qua Scusate Ma non ho capito Prende il freno? No, dobbiamo andare là Noi Ok Aspettate Siamo dritti? Uh, sui Ci siamo, ci siamo Mettiamoci dritti qua e qua Che parcurito strano Però è bello Ok Bella veloce Emerus Ci arriviamo? Sì, 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 sì Oh, non rimbalzare Come? Aspettate Passiamo qua Che meglio Oh, ci siamo Dopodiché Wallride Facciamo attenzione Veloce Cosa, regà? Quante ripito Questo Wallride Mio Dio Aspettate Che devo vedere Ok Ci mettiamo così Uiuto Ce la fa? Aspettate, regà Che non ho capito, eh Ci riproviamo Siamo sempre Belli Primeri Ok Eh, regà Sapete che non riesco a stare dritto nel Wallride Ciò io crede Sta arrivando qualcuno No, no, no Tutto ok Aiuto Dritto, dritto, dritto Sui Uuuu Regà, quanto regge la Emerus? Che spettacolo di gara Sali, 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 sali Regà La Emerus È veramente micidiale Uuuu Regge tantissimo, regà Non c'è problema Ok Dopodiché Dove dobbiamo andare? Che so? Ste soluzioni semplici Ok Qua abbiamo un bel check Cosa devo fare? Io citto, eh No, ragazzi Poi citta Comunque Dobbiamo fare tipo Un loop Sì Piano 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 Era qua? Sì, sì, sì Tutto ok Andiamo tranquilli Va veloci Che c'è stanno i chiudi Olè Un altro loop qua Madre mia Aiuto, aiuto, aiuto Ok Andiamo Qua c'è un bel check Eh sì Piccolina questa gara? Sì, mancano pochissimi check Aiuto Oh, luco Che sta a falla? Sui Andiamo Andiamo, andiamo Carina questa mecarampa Come al solito Non c'ho memoria Rockstar Editore Mannaggia a me Andiamo Vediamo Cosa dobbiamo fare adesso Bella proposta parte Oh mio Dios No, no, no Che se bugga la macchina Se sto appiccicato qua Qua c'è un check Cosa? Non ho capito Sinceramente Perché c'era un check là? Bella questa mecarampa Guardate Che spettacolo Ok Dopodiché Dopodiché Ragazzi Dobbiamo atterrare là Aiuto 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 Facciamo così Olè E poi Aspettate Prendiamo prima Questo check Rapido 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 Sui Ok Ah e poi c'è il traguardo Ragazzi è finita la gara Comunque sia Prossima gara Ok Seconda gara Questa gara è stata creata da Tazmaniacs Vi lascio il suo canale in descrizione E si chiama Green Apple Qualcosa Non mi ricordo Andiamo Green Apple Splatters Non fate caso alla mia pronuncia E vedrò la Giro 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 Sui Con questa bella XA21 Belli spericolati Aiuto 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 Ok siamo vivi Andiamo Dove bisogna andare Freena 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 Oh le ci siamo Dopodiché Bisogna saltare Ok Guardate che bella carrerita Non so se è un level ASEAN Però ho visto che ci sono parecchi wallride Cosa bisogna fare qua Rimaniamo dritti per sicurezza Dove Ah ok ok Era semplicemente qua Facciamo più di un 360 E ci mettiamo proprio in direzione Check Ok Proseguiamo Che sta arrivando Vediamo un po' la classifica Romanaccio Secondo e terzo Black Tiger Ok Cosa deve fare qua Ma se tipo taglio qua Vado a prendere il check Però no regà Facciamo La strada Classica Anzi quella giusta Ok Proseguiamo Comunque questa è la mia XA Ben più modificata Verde lime Ok Per adesso Sono tutti wallride Semplici Oh le Un altro 360 Ma si Però voglio atterrare dritto Perfetto direi Portate che wallride C'è regà Concentrate qua Non mi gioca carrerita Ok Oh Un po' d'ansia Un po' d'ansia C'è Ok Dopodiché Uh Ok Regà Cos'è successo Non lo so Alto Regà La velocità è buona Che dite Regà Io non ci ho capito niente Ho preso di nuovo Un altro wallride Boh Non mi chiedete Assolutamente Nata Qua bisogna stare dritti Ok Ok Ci siamo Andiamo Oddio regà Non ci arrivo Mi sa che Ho sbagliato Ho sbagliato regà Ci arrivo? Sì che ci arrivo Madre mia Ci siamo Ok Dobbiamo andare là? Sì sì Prepariamoci al saltino Dove? Ma ci rigiriamo con stile va? Ok Delicatamente Terriamo pure così Vabbè Volevo atterrare un po' più dolce Ma Non ci siamo riusciti Proseguiamo Che gara strana Su 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 Ok Facciamo molta attenzione Ho aiuto E Sì Non Non regà Ho sbagliato Sbagliato Dove è cominciata qua? Sì Sta arrivando pure qualcuno Neapolitan Su Antori Andiamo 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 Belli rapidi Allora Non ero pronto a quel wallride Ora sì Delicato 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 Su Ok Dopodiché Un altro wallride Regà Non ci voglio credere Poi non ho capito Cosa è successo Dove stava? A quale piano stava Regà? Vedete che c'è Attimo tre piani Questo wallride Era il secondo Credo Non l'ho visto Regà Ho messo un wallride Ceco Non si vede Assolutamente Nada Aiuto 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 Credo che sia qua Credo eh Sì 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 Non Non Dove sono finito? Dove sono? Qua Che dite? Aspettate un attimo Teoricamente era così Proviamo a prendere La rincorsa Da qua Perché siamo usciti Troppo alti Ci dobbiamo pure Sbrigare Perché se arriva Al sui Non ci prega Primerà Vediamo se è possibile La velocità Sembra buona Ok Sì sì Secondo me sì Oh Oh Rega ci arriviamo? Secondo me A voglia Ok Atterriamo così E dopo di che Regaliamo il traguardo Eccolo qua Olle Comunque sia Se vi è piaciuta La gara parkour E questa gara stunt finale Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passatevi su uno canale Bigport E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello E noi ci becchiamo Ciao